Ho suddiviso un video di le novità di Heshop del giovedì, l'ho dovuto fare con un altro video, che è l'altro video tutto di Just Dance, si chiama sempre uguale, però c'è prima parte, seconda parte, questa è la seconda parte di Just Dance, per cui andiamo a vedere la nuova brano che c'è di Just Dance e come si balla, per cui andiamo a vedere Just Dance, Just Dance, Just Dance, andiamo tutti assieme, accomodatevi e sedetevi, non vi vedo seduti, sedetevi e godetevi questo bel video, andiamo con Just Dance 2000. Eccoci a Just Dance, allora vi farò vedere due balletti che sono le novità, questo l'avete già visto, un balletto vi faccio vedere, ok guardate bene il balletto, non vi distrago, via col balletto. Sous-titrage ST' 501 Chacchè churà de no, di n'yamare No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no